Musica Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. San Matteo senza la tradizionale processione per il santo patrono della città di Salerno ma anche senza fuochi d'artificio. La questura di Salerno ha comunicato che lo spettacolo dei fuochi d'artificio è vietato quindi vengono completamente accantonate le voci che prevedevano i fuochi d'artificio a mezzogiorno e alle 11 di sera. Sentiamo. Niente processione né fuochi d'artificio. La ricorrenza di San Matteo, patrono della città di Salerno, sarà vissuta in sordina ma nel rispetto delle tradizioni non ci saranno limitazioni né dubbi. a lasciarsi inebriare dal profumo intenso e inconfondibile della milza ambuttunata. Diversamente dalle voci che circolavano in città nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità dalla questura di Salerno che i fuochi d'artificio per San Matteo sono vietati. I fuochi pirotecnici, si legge in una nota della polizia, non sono stati autorizzati. Non sono state infatti accolte le istanze di autorizzazione ad accendere i fuochi pirotecnici né a mezzogiorno né alle ore 23 del 21 settembre. Le modalità di svolgimento della giornata di celebrazione in onore del Santo Patrono e la connessa necessità di contemperare i tradizionali festeggiamenti con le attuali misure di contenimento del coronavirus sono state oggetto di più sedute di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Salerno Francesco Russo, nel corso del quale è stato valutato come necessario ed opportuno che i festeggiamenti del Santo Patrono quest'anno si svolgessero secondo modalità tali da garantire il rispetto della normativa emergenziale della tutela della salute pubblica. Il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di autorizzazione dei fuochi pirotecnici è stato emesso dal questore di Salerno Maurizio Fricarra in considerazione della vigenza delle disposizioni governative anti-covid in materia di spettacoli e manifestazioni pubbliche dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, tenuto conto del parere conforme espresso dal Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica. In particolare sono state valutate le circostanze complessive del momento e in particolare il rischio epidemiologico da contagio è stato ritenuto pregiudizievole per la salute pubblica l'inevitabile assembramento che si potrebbe determinare con una moltitudine di spettatori prevedibilmente richiamati dallo spettacolo dei fuochi con conseguente pericolo di contagio anche visto il trend di crescita dei casi positivi attualmente registrati. Sempre per motivi di contenimento del contagio come noto da tempo non ci sarà la processione per San Matteo ma solo una veglia di preghiera e l'accesso al Duomo di Salerno per la messa pontificale delle ore 11 celebrata da Monsignor Andrea Bellandi che sarà esclusivamente possibile tramite inviti mirati per un massimo di 200 persone. È invece prevista come dicevamo la veglia di preghiera in cattedrale alle 18.30 con letture, riflessioni, acclamazioni e canti in riferimento ai quattro momenti della processione. Sono previste altre celebrazioni precedenti ad orari distanziati alle 6.30, alle 8, alle 9.30 e alle 20.30. E sempre nel rispetto delle norme anti-covid sono state consegnate questa mattina nei seggi delle sezioni elettorali della città di Salerno tutto il materiale necessario per le votazioni e lo scrutinio per le elezioni referendari ed amministrative. In tutte le sezioni elettorali dovranno essere rispettate le misure anti-covid. Si voterà domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Per votare questa volta oltre ad essere in possesso del documento di identità e della scheda elettorale bisognerà indossare la mascherina ed igienizzarsi le mani. Il servizio. Avviata da questa mattina nei locali delle sezioni elettorali la consegna del materiale degli oggetti e delle carte occorrenti per la votazione e lo scrutinio necessarie per l'operazione di voto nelle 152 sezioni del territorio del comune di Salerno. Se per gli addetti ai lavori una routine che precede l'insediamento dei seggi dei presidenti e degli scrutatori, per gli elettori invece questa tornata elettorale per il referendum e le amministrative sarà un appuntamento unico nella storia. Per la prima volta le urne, elettori e componenti dei seggi indosseranno la mascherina, si serviranno di percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita. Sono le votazioni targate 2020 ai tempi del covid-19 che vedrà anche alcuni seggi speciali deputati a raccogliere il voto delle persone attualmente positive con l'ausilio di personale sanitario e medico e della protezione civile. Ci saranno nuove regole, si preannuncia una tornata elettorale difficile anche con la possibile assenza di scrutatori in fuga per il rischio covid. Si temono inoltre anche code ai seggi per i controlli di rito, elettori e componenti dei seggi dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina e bisognerà indossare i guanti per le operazioni di spoglio delle schede. Sono previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita identificati con opportuna segnaletica, nonché operazioni di pulizia dei locali, disinfezione delle superfici di contatto come tavoli e cabine elettorali. Inoltre per evitare assembramenti nei seggi elettorali dovrà essere previsto il contingentamento degli accessi all'edificio. Al momento dell'accesso al seggio l'elettore dovrà procedere all'igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione prima di ricevere la scheda e la matita provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto è consigliata un'ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. Come da decreto legge del 14 agosto 2020, al fine di prevenire i rischi di contagio nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, l'elettore dopo essersi recato in cabine ed aver votato e ripiegato la scheda provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Bisognerà ovviamente evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37 gradi e mezzo, non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi giorni. Per queste ragioni il Comitato Tecnico Scientifico non ritiene necessaria la misurazione corporea durante l'accesso ai seggi. In alcuni comuni della provincia di Salerno alcuni sindaci hanno firmato le ordinanze che rinviano l'apertura dell'anno scolastico al 28 settembre e al primo ottobre. L'assessore all'istruzione del comune di Salerno, la vice sindaco Eva Vossa, in linea con le indicazioni della regione Campania, ha ribadito invece che l'inizio dell'anno scolastico resta fissato al 24 settembre. Sul fronte dei trasporti si pianificano più corse dei bus e allo stesso tempo un'integrazione del trasporto pubblico locale. Sentiamo. Coordinare gli orari, differenziare gli accessi, gestire i trasporti, garantire un rientra, scuola in sicurezza. Sono le leve sulle quali si lavora mentre si accorciano i tempi che conducono al 24 settembre, giorno della prima campanella per molte scuole. Mentre la comunità scolastica dai presidi fino a giungere alle famiglie sono in fibrillazione, non mancano gruppi organizzati di genitori che chiedono un'organizzazione diversa della didattica, soprattutto rispetto agli orari previsti per i doppi turni e i pomeridiani. In diversi comuni della provincia di Salerno alcuni sindaci hanno firmato le ordinanze che invece rinviano l'apertura al 28 settembre e al 1 ottobre. L'assessore all'istruzione del comune di Salerno, Eva Vossa, in linea con le indicazioni della regione Campania, ha invece ribadito che l'inizio dell'anno scolastico resta fissato al 24 settembre. Ma non mancano intanto appelli di alcuni presidi di scuole salernitane a pensare ad un rinvio dell'inizio delle attività scolastiche anche in virtù dell'utilizzo di molte scuole come seggi elettorali. Sul fronte ai trasporti si pianificano più corse e allo stesso tempo un'integrazione del trasporto pubblico per il fatto che le regole in vigore portano ad una riduzione della capienza, così come ha spiegato ai nostri microfoni l'assessore alla mobilità del comune di Salerno Mimmo De Maio. Noi abbiamo avuto un tavolo la settimana scorsa, no martedì scorso, in prefettura proprio con tutti i soggetti impegnati nel sistema del trasporto pubblico locale, anche perché abbiamo delle direttive che arrivano dal governo nazionale che consente di poter garantire il trasporto con un 80% di saturazione per dire di quelli che sono i mezzi pubblici. Abbiamo avuto la presenza anche della dirigente del provvedorato della scuola per coordinare gli orari, da un lato può essere vantaggioso distanziare e differenziare gli accessi, dall'altro comporterebbe problemi per il trasporto soprattutto chi viene da fuori, ma ci siamo ripromessi adesso anche credo a partire anche dalla prossima settimana di fare sintesi di tutte queste proposte e ci sono delle opportunità perché ognuno dei soggetti che garantiscono trasporto pubblico privato ha presentato alla regione un piano di rafforzamento e fortunatamente abbiamo avuto anche garanzie che le risorse sono disponibili per implementare il sistema dei collegamenti per quanto riguarda l'aspetto delle scuole al mattino. Le scuole infatti potrebbero utilizzare anche pulmini a capienza ridotta con noleggio con conducente e quindi bypassare il trasporto pubblico locale? Non bypassare ma integrare il trasporto pubblico locale perché con questa opzione che le direttive, le circolari e le norme dettono possiamo sicuramente garantire quelle che sono state le limitazioni e sono le limitazioni dettate dai dispositivi di sicurezza che dovranno necessariamente essere rispettati. Le informazioni in suo possesso saranno aumentate le corse, ci saranno più mezzi soprattutto nelle principali fasce orarie del mattino e a fine scuola? Sì, proprio questo. L'implementazione e il ricorso anche ad altri soggetti consentirà di incrementare le corse e consentirà quindi di garantire il trasporto soprattutto per chi viene dalle zone più periferiche e quindi con il provvedorato, quindi con gli istituti scolastici stiamo coordinando queste attività perché chiaramente interessa quali sono le modalità con i quali i prezzi dei vari istituti stanno attrezzando gli orari di ingresso e quindi cercare di fare un lavoro che sia coordinato con tutti. E proprio in considerazione del fatto che molte scuole saranno seggio elettorale e verranno riconsegnate ai rispettivi dirigenti scolastici solo il 23 settembre, d'accordo con molti presidi, sindaci di Agropoli, Capaccio Pestum, Casella Impittari, Vibonati, Cuccaro Vetere, Sanse Ascea con un'ordinanza hanno posticipato l'inizio delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado a partire dal lunedì 28 settembre. Sentiamo. Slitta l'apertura delle scuole a Capaccio Pestum ed Agropoli. Con apposita ordinanza il sindaco della città dei Templi, Franco Alfieri, sulla base delle richieste avanzate dai dirigenti scolastici locali, ha disposto il posticipo dell'inizio dell'anno scolastico, delle scuole dell'infanzia e delle primarie e secondarie di primo grado al 28 settembre. Molti dei plessi scolastici presenti sul territorio comunale, infatti, saranno sedi di seggi elettorali. Gli stessi plessi torneranno nella disponibilità dei dirigenti il 23 settembre, ossia il giorno precedente all'avvio delle attività didattiche disposto dalla Regione Campania. Al fine di dare piena e pontuale attuazione alle misure di contenimento del Covid-19, l'amministrazione comunale Capaccese ha così ritenuto opportuno e necessario il provvedimento. Anche ad Agropoli gli studenti torneranno a scuola lunedì 28 settembre dopo l'ordinanza a firma del sindaco Adamo Coppola, diramata anche al fine di concedere tempo utile per compiere le operazioni di sanificazione ed accogliere al meglio e in sicurezza gli studenti cilentani. E come dicevamo non solo Agropoli, Capaccio ma anche Caselli Impitteri, Vibonati, Cuccarovetere, Ascea ed anche Sanza hanno deciso di posticipare l'apertura delle scuole. Quattro giorni in più di vacanze anche nel Salernitano per i ragazzi che frequentano le scuole in alcuni comuni del Salernitano tra cui Sanza e Buonabitacolo nel Vallo di Diano e Vibonati nel Golfo di Policastro. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate in diversi comuni salernitani le ordinanze sindacali per posticipare rientro tra i banchi dopo il lunghissimo periodo di chiusura iniziato lo scorso 8 marzo a seguito del diffondersi dell'epidemia da Covid-19. Dopo un'estate calda tra incertezze e dubbi sui protocolli da seguire per evitare possibili casi di contagio all'interno delle scuole e dopo la bocciatura all'emendamento proposto per tutelare presidi, docenti e personale scolastico da eventuali responsabilità penali non riconducibili direttamente a mancanze e colpe degli stessi, è chiaro che la scuola appunta raggiunge il maggior grado di sicurezza possibile nel rispetto di quanto previsto dai protocolli. Ed ecco che come ipotizzato iniziano ad arrivare le prime ordinanze da parte dei sindaci che concedono ulteriore tempo alle scuole per organizzarsi. Apertura posticipata al 28 settembre per l'istituto comprensivo Sansa Bonabitacolo su richiesta della dirigente scolastica. Mentre a Sansa è stata ufficializzata nella giornata di ieri con apposita ordinanza la ripartenza delle attività in presenza a partire dal lunedì 28, anche i ragazzi di Bonabitacolo prolungheranno di qualche giorno le vacanze a seguito di sopralluogo effettuato dal primo cittadino accompagnato dalla dirigente scolastica Cantillo che ha suggerito di posticipare rientro a scuola. Richiesta accordata dal primo cittadino. Secondo quanto si legge nell'ordinanza emessa dal sindaco di Sansa a seguito sopralluogo presso gli uffici scolastici sansesi sono emersi alcune criticità che impedirebbero la predisposizione e l'organizzazione degli ambienti scolastici in conformità con le misure previste dai decreti governativi e dai protocolli stabiliti dal comitato tecnico scientifico. Per il comune di Vibonati nel golfo di Policastro le motivazioni del sindaco a giustificazione del posticipo della data di apertura della scuola al 28 settembre è prevalentemente legata alle elezioni. Sull'ordinanza si legge infatti che essendo gli edifici scolastici adibiti a seggi elettorali è necessaria un'adeguata sanificazione dei locali per garantire l'avvio delle attività scolastiche in assoluta sicurezza. Anche altri comuni del Salernitano si sono orientati per il posticipo dell'avvio delle elezioni al 28 settembre e sono Capaccio, Agropoli, Battipaglia, Cava dei Tireni, mentre a Scafati la scuola riprenderà il primo ottobre. E ci occupiamo ora di cronaca spostandoci a Capaccio dove si registra ancora un incidente sulla statale 18 nei pressi dello svincolo Spinazzo. Questa mattina intorno alle 10.30 una moto è andata a scontrarsi contro un'auto. Il centauro è finito a terra riportando ferite e contusioni per fortuna non gravi a bordo della vettura. Quattro giovani. Incidente stradale questa mattina sulla strada statale 18 in località Spinazzo del comune di Capaccio Pesto. A scontrarsi per cause ancora da accertare un'auto ed una motocicletta di grossa cilindrata. A riportare la peggio nell'impatto è stato il centauro in sella alle due ruote un giovane salernitano soccorso e trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale civile di Roccadaspide per accertamenti. Fortunatamente non ha riportato ferite o lesioni gravi. Illesi i quattro giovani che viaggiavano a bordo dell'autovettura, un Alfa Romeo Mito subito fermatisi per verificare l'accaduto ed allertare i soccorsi. Rilievi del sinistro stradale eseguiti dagli agenti della Polizia stradale di Vallo della Lucania, giunti sul posto insieme a personale dell'ANAS. Un vasto incendio ha invece distrutto parte di macchia mediterranea sulle colline di Trivio e Codola. Il sindaco di Castel San Giorgio pronto a chiedere aiuti. Sentiamo. E' stato individuato il presunto responsabile dell'incendio di Vampato lo scorso 15 settembre a Castel San Giorgio, in località Paterno, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico alle pendici della montagna e a breve distanza dalle abitazioni. Una volta giunti sul luogo dell'incendio, gli uomini della Polizia Municipale, guidati dal comandante Giuseppe Contaldi, hanno trovato in fiamme cumuli di rifiuti di diversa natura sul suolo agricolo. È stata poi allertata la sala operativa di Salerno, la protezione civile ed il gruppo comunale per il primo intervento e con il supporto del personale inviato dalla regione Campania, l'incendio è stato domato dopo diverse ore. Immediatamente sono scattate le indagini e dopo una serie di pedinamenti, gli uomini della Municipale hanno identificato gli affittuari del terreno e chi aveva appiccato il fuoco perdendone il controllo. Il terreno è stato poi sottoposto a sequestro giudiziario. Nell'area sono stati rinvenuti rifiuti di ogni tipo, scarti vegetali, pneumatici, amianto, plastiche e calcinacci, fino anche elettrodomestrici industriali completamente in stato di abbandono. Soddisfatta il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, che si è complimentata con il comando di Polizia Municipale ed in particolare con il comandante Contaldi, che ogni giorno svolge il proprio lavoro con dedizione, impegno e passione. L'operazione è giunta al termine in una settimana di incendi che ha martoriato la valle dell'Irno, bruciando ettari di vegetazione naturale, l'ultimo dei quali ieri mattina, sempre a Castel San Giorgio, dove le fiamme hanno colpito e devastato le zone collinari dalle frazioni di Trivio e Codola, propagandosi velocemente su tutto il costone a causa del vento. Le fiamme hanno distrutto svariati ettari di verde, bruciando tutto quello che hanno incontrato sul loro percorso. Il ruogo all'ambito anche materiale di scarto, presente in una cava della zona da cui è scaturita una nube nera. Le fiamme sono state domate nel tardo pomeriggio. Ed i carabinieri invece della stazione forestale di Sarno hanno denunciato una persona responsabile invece dell'incendio che si è verificato lo scorso 13 settembre in località Villa Venere, nel comune di Sarno. I militari hanno portato avanti una serie di minuziosi indagini a seguito dell'incendio, ricostruendo gli eventi, la dinamica di propagazione delle fiamme e soprattutto dopo aver accertato il punto di insorgenza del fuoco sono riusciti ad individuare il responsabile. Si tratta di un uomo AS, questo è l'iniziale, originario di Sarno, conduttore di un fondo agricolo che anche in questo caso, nell'atto di bruciare i residui vegetali delle coltivazioni, pratica tra l'altro vietata in periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, ha abbandonato il fondo senza accertarsi del completo spegnimento delle fiamme. Le condizioni climatiche favorevoli alla propagazione del fuoco con il vento hanno poi agevolato l'estendersi delle fiamme all'interno del fondo e il rischio di interessare anche gli altri terreni circostanti. L'intervento tempestivo dei carabinieri della forestale ha impedito che la situazione degenerasse e che le fiamme si propagassero ulteriormente in tutta l'area boscata adiacente. L'autore di questo reato è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per incendio boschivo colposo. E ci occupiamo ora di ambienti o meglio di rifiuti perché c'è una raffica di sanzioni a battipaglia. Il comune ha punito i furbetti della raccolta differenziata elevando 22 verbali. Sentiamo. Mancato rispetto della raccolta differenziata a battipaglia elevati 22 verbali dalle guardie ambientali che continuano la loro attività sul territorio comunale. La comunicazione arrivata dalla sindaca cecilia francese a bilancio dell'esteso e capillare controllo negli ultimi 15 giorni con un successivo report mensile definitivo che verrà fornito a breve. I verbali sono così suddivisi. 6 per cartoni lasciati in strada fuori orario, 8 i verbali per carrellati lasciati fuori orario o giorno ed ancora 4 per mancata differenziazione dei rifiuti, 2 per l'errato giorno di conferimento, un verbale per l'utilizzo di un sacco nero ed infine un altro verbale è stato emesso per l'abbandono di rifiuti ingombranti. In strada, come già specificato, i controlli stanno continuando in queste ore e giorni per le strade battipagliesi in attesa di un report definitivo che sarà fornito dalle guardie ambientali. Ed ora come di consueto è il momento di dare spazio alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Cineforum al Cinemateatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno dove quest'oggi è in programma il film in uscita nazionale Miss Marks tra gli spettacoli alle ore 18 alle 20 e 15 alle 22 e 30. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it Sabato 19 settembre alle 19 e 30 sarà inaugurata a Salerno la sede Gamma in corso Garibaldi al Civico 28, prima sede italiana della Mediolanum Art Gallery. Ci saranno come special guest il regista Fabrizio Maria Cortese, gli attori Corin Clary e Antonio Catania. Un'apertura in pompa magna per la Galleria d'Arte Moderna, il progetto ideato da Mirko Mele, curatore e direttore artistico, un vero e proprio party dell'arte che vedrà oltre al vernissage anche la proiezione del film di Fabrizio Maria Cortese, Free Liberi. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E parleremo di sport e di calcio di Salernitana subito dopo la pubblicità, ma intanto guardiamo insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore. A tra poco. Ristorante e pizzeria Eureka. I sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio sulle coste, schierite a ternate, a nubi sparse. In montagna, bel tempo con cieli sereni o glati. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport. Ci occupiamo ora di calcio. Tra proteste e silenzi, la Salernitana si avvicina all'esordio in campionato. Un altro striscione è comparso nella notte, proprio mentre a Roma si consumava un altro colpo di scena nell'ormai farsesca vicenda Tutino. A Polla è stato esposto uno striscione nel quale, oltre ai patron, viene citato anche Fabiani, invitato al pari dei due cognati a lasciare Salerno e la Salernitana. Sentiamo. Un altro striscione è comparso nella notte, proprio mentre a Roma si consumava un altro colpo di scena nella ormai farsesca vicenda Tutino. A Polla è stato esposto uno striscione nel quale, oltre ai patron, viene citato anche Fabiani, invitato al pari dei due cognati a lasciare Salerno e la Salernitana. L'ennesimo segnale di un malcontente e di una insoddisfazione crescenti nei confronti del triunvirato laziale che da settimane ha scelto di rispondere con un silenzio assordante alle rimostranze della piazza e che proprio ieri nel vertice andato in scena Villa San Sebastiano ha discusso del lato economico e tecnico disponendo il ritorno in Granata di Casasola, Cario e Lombardi ed il passaggio di ACPAC Pro alla Lazio. L'interscambio di maglie sull'asse Roma-Salerno, inaugurato dal passaggio di guerrieri a tirolo definitivo in Granata, coinvolge anche Gigi e che dovrebbe riguardare anche il brasiliano Anderson. Si aspetta anche l'ufficialità dei prestiti di Cirelli e Gondo, ma anche la parola fine sulla vicenda a Tutino. Se, come pare, l'ottito ha bloccato l'operazione sollevando perplessità su cifre in modalità della stessa, allora i casi sono due. O il patron non aveva autorizzato Fabiani a chiudere a determinate condizioni la trattativa, oppure sta riflettendo sul da farsi a 360 gradi. Di sicuro la frenata, se non proprio la marcia indietro, rende bene l'idea di quante estemporaneità ed approssimazione siano alla base delle mosse di mercato del club Granata, legato a filo doppio a quello della Lazio, ma anche del Napoli. Tare è giunto, li hanno avuto un ruolo non secondario finora, visto che il primo è il direttore sportivo della società che detiene i cartellini di molti dei calciatori destinati o associati alla serenitana. Ed il secondo è il direttore sportivo del Napoli, società con cui da settimane si parla di Tutino e Palmiero, ma che a sua volta, avendo un rapporto diretto col Bari, ha pensato bene di alleggerire il montengaggio del club pugliese, premendo affinché la serenitana accogliesse il cubice schiavone. Il silenzio di Lotito e Mezzaroma e il basso profilo scelto da Fabiani si prestano a più interpretazioni. Di sicuro andare avanti su questi binari appare molto pericoloso per la salernitana. E tra sette giorni si comincerà a fare sul serio alla Rechi, la salernitana affronterà la regina, ma per la prima di campionato Castori rischia di essere ancora a corto di uomini a una gara ufficiale da circa tre anni e a Trapani nella sua prima e unica esperienza lontano dalla capitale non ha lasciato bei ricordi. Non si sa perché Micai sia stato messo alla porta, se cioè sia stato Castori ad optare per un altro estremo difensore o se la società abbia ritenuto di dover rinunciare alle prestazioni di un calciatore ingaggiato con un quinquennale nel 2018. Nessuna chiarezza sull'argomento come nella migliore delle tradizioni ed ancora in difesa con Bogdan, altro assistito dell'agente Paloni. I centrali ingaggiati in questo mercato sono tre, visto che ci sono anche Veseli e Ghiomber, a cui si aggiungono Mantovani, Aia, Caro e Migliorini. Nessuno è propriamente un centrale con spiccate doti di impostazione. Manca all'appello almeno un mancino puro. Sugli esterni invece si sta facendo incetta di cursori di fascia destra. Casasola, Cupis, Lombardi, lo stesso Cirelli che finora si sta disimpegnando da mezzala per mancarsi di alternativa in quel ruolo. A sinistra invece resta il veterano Lopez che non può offrire per ragioni agrafiche affidabilità tenuta sul lungo periodo. E' l'enigmatico cursio finora visto a sprazia anche a causa di qualche infortunio. Si sta allestendo una rosa per il 3-5-2 o per un altro modulo. Anche a questa domanda finora non c'è stata risposta. Al centrocampo mancano le mezziali di ruolo, se l'intenzione è di giocare a tre, mentre si rischia di avere un eccesso di metodisti. Di Tacchio, Gigi che schiavone, pur con caratteristiche differenti, in un centrocampo a tre insisterebbero tutti nella stessa zolla di campo, ossia quella di vertice basso e così anche eventualmente Palmiero. Ad una settimana l'esordio, la serenità è incompleta e disomogenea e organica come nella migliore o peggiore tradizione in linea con l'operato degli ultimi cinque anni in cui in sede di mercato raramente si è riuscita a riconoscere un senso logico, quindi tecnico, in quanto fatto dal direttore sportivo e dall'Otito. Solo lo scorso anno, con Ventura in panchina, si era partiti per il ritiro con un gruppo quasi al completo a cui la sapienza dell'allenatore aveva conferito qualcosa in più che ha permesso a molti calciatori di esprimersi come mai in carriera. La dimostrazione e la conferma di ciò sono arrivate anche dal post social di ACPAC Pro che ieri è finalmente approdato il mio ufficiale a Lazio e che ha ricordato i meriti di Ventura per la sua crescita professionale. Ultimo, ma non meno importante, c'è sempre il nodo attacco. Anche in questo settore la sanità non ha ancora completato il lavoro, nella migliore delle ipotesi, dunque Castori avrà pochi giorni per provare la formazione titolare prima dell'esordio. Il rischio che debba attendere la fine del mercato e dunque almeno la terza giornata per avere una rosa con tutti i trasselli al proprio posto al momento non è da trascurare. E voltiamo pagina appena terminata la settimana del mare con il memorial dedicato a Mario Scotti Galletta. La Rarinantes Salerno si ritrova alla piscina Simone Vitale per gli ultimi allenamenti. Prima di affrontare la prima fase della Coppa Italia di pallanuoto, lo scatto della foto ufficiale della squadra e l'occasione per presentare le magliette che portano un messaggio molto chiaro contro il razzismo. La Rarinantes nuoto Salerno ormai da molti anni non limita il suo impegno alla sola attività sportiva. Sotto la presidenza di Enrico Gallozzi ci si prodiga nell'impegno civile e nel sensibilizzare i propri atleti e la città a tematiche di grande interesse sociale. I temi della lotta ad ogni tipo di discriminazione fa parte ormai del nostro DNA, afferma il massimo dirigente Enrico Gallozzi. Dobbiamo sfruttare la nostra visibilità per lanciare dei messaggi chiari ed una condanna senza appelli ad ogni forma di razzismo. E dunque in occasione delle prossime gare di Coppa Italia che si terranno alla piscina Scandone di Napoli il 20 di settembre contro Ortigia e Posilipo, gli atleti guidati da mister Matteo Citro indosseranno le magliette con gli slogan And Racism and Black Lives Matter. Le scirte create per l'occasione vogliono essere un messaggio forte che la Rarinantes lancia contro uno dei peggiori cancri della nostra società, il razzismo. E con quest'ultima notizia dedicata alla squadra di Palla Nuoto Salernitano termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti dell'ultima ora, in ogni caso vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci scelto. Buon proseguimento. Arrivederci. www.tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand